Cotto e frullato Benvenuti a Cotto e Frullato Dov'è sto coso? Sei licenziata? Via! Attento Maurizio Qualcosa sta per accadere No, no, cosa tu frullare? No, no, no! Perciò 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 Voglio i tuoi abiti, i tuoi stivali e la tua motocicletta. Ciao. Testa di cazzo. Noi due abbiamo un nemico comune. Oddio, ma avrò più troppo! C'è quello che commenta cagate su chi vedete. Ogni è tutto nel tuo corpo, non è tutto nel mio possesso. Avresti fatto più bandandomi del latte. Tu non mi fai paura? Io no. Ma magari un amichetto sì. Ma che vuoi? Non hai neanche il coraggio di mostrarmi la tua faccia di merda. Ma che vuoi? 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 Grazie.